ditemi che vi devo dire ditemi che vi devo dire e io ve lo dico abbiamo giocato una partita anche onesta visto l'avversario perché abbiamo giocato onesta sul finale sai che questi dalle palle inattive la mettono sempre dentro gli dai due gol da palle inattiva mi sembra giusto il ragionamento stasera non ho la forza per essere troppo incazzato non c'ho la forza però ripescate il video di quattro giorni fa perché Salernità e Milan sono quattro giorni fa 4 più 4 fa 8 oggi è l'8 gennaio e risiamo qua con un altro capitolo della saga la partita l'hai anche giocata bene e quindi sei anche pollo la Roma ti ha aspettato dietro e la Roma si è portata a casa è questo che farò del culo si è portata a casa il risultato che voleva perché la Roma non è venuta qua per vincere ma è venuta qua per non farti vincere te che è diverso durante la live reaction che uscirà domattina ho sempre detto state a vedere che la Roma farà un tiro e farà un gol facciamo il 2 a 0 prima di fare prima che lo facciano un 1 a 1 e in effetti abbiamo fatto 2 a 0 e che succede sempre sempre sul finale di partita stacchiamo la cazzo di spina il primo gol è un calcio d'angolo sto qua a parte da dietro dimenticato da tutti i bagnez è un bidone perché è un bidone del cazzo fa solo gol così evidentemente questo messaggio ai giocatori del Milan non deve essere passato dopodiché dopodiché cosa dopodiché Vranx perché Vranx perché Vranx Vranx è entrato per Benazer che stava facendo una partita spettacolare Benazer spettacolare Vranx è arrivato ha fatto fare il gol del 2 a 0 Vranx perché ha recuperato quella palla al centrocampo che poi è andata detta per dita che è andata la palla a Pobega ma del resto Vranx se avessi usato un po' la zucca se avessi usato un minimo l'intelligenza il gol del 2 a 2 non sarebbe mai arrivato Smalling ti regala una palla la palla ti passa accanto tu cosa fai? fai la finta di corpo fai la finta di corpo e sei da solo sei da solo in mezzo al campo fai la finta di corpo vedi l'uomo che ti arriva l'amante in rimessa laterale non contento della cappella cosa fai? battono la rimessa con questi palla e vai a fare fallo in posizione pericolosissima pericolosissima e ovviamente quando Tataruzano para una palla ovvero quando li calciano addosso questi vanno a fare gol giusto così perché quando vi dicevo con la salernitana le partite non durano più 90 minuti durano 100 minuti perché ci sono i recuperi vari bisogna tenere l'attenzione tutta la partita già abbiamo staccato la spina nella final del primo tempo con quel tiro di Zaleschi che è un miracolo che va fuori perché tanto ripeto a Tataruzano se non gli calciano addosso è gol preso fino all'ottantacinquesimo non gli hai neanche fatto in Italia non gli hai fatto fare niente manco la metà campo passavano e tu te ne esci con un due a due c'è una cosa vergognosa è una cosa vergognosa vergognosa non si può cioè ma non esiste ma io penso che sia più più clamorosa dell'Inter ieri sera perché l'Inter ieri sera è stato sotto il Monza 90 minuti il Monza meritava il pareggio già prima già prima meritava il pareggio il Monza ha fatto più tiri in porta dell'Inter ieri in Monza ieri sera quindi era anche pronosticabile che magari trovasse un colpo di culo e trovasse il pareggio ma la Roma stasera ha fatto tre tiri in porta due gol e la respinta prima del gol cioè è vergognoso è vergognoso ragazzi continuiamo a arrivare a queste partite con la panchina corta continuiamo ad arrivarci continuiamo che facciamo tanta strada continuiamo a arrivare a queste partite che tu togli un titolare e metti un primavera tra un po' continuiamo continuiamo a riempire l'infermire continuiamo a avere i preparatori che ti fanno infortunare quattro giocatori a settimana continuiamo continuiamo che questa è la strada continuiamo l'inter pareggia l'inter pareggia col mondo cosa che non succederà mai più nella storia del calcio tu domini domini una partita perché la domini la domini e la pareggi sei due a zero e ricordo che due a zero la partita non è chiusa perché chi gioca bastardo che si mette dietro e sfrutta le occasioni te la mette nel culo e dovremmo esserne abbastanza esperti di sta cosa viste le partite che si sono vinte facendo tre tiri in porta questi da poi in attiva sono bravi cosa fai dormi dormi vi dissi vi dissi prendete adesso dato che sicuramente tutti i non milanisti si riverseranno su questo video allora quando non vinciamo è un'occasione golosa per dirvi tutte le cose che ho da dirvi andate a ripescare adesso la live reaction di Salernitana a Milan è qualche video fa dopo 20 secondi dall'inizio ma anche meno forse proprio forse la prima parola che la prima frase che ho pronunciato da quando è iniziata la partita è stata godetevi Salernitana a Milan perché dalla prossima ridiamo e qua e qua e qua me la prendo con i miei con i miei tifosi che sempre pessimista tutti ti fico contro semplicemente leggo le situazioni e traggo delle conclusioni perché se tu l'ho detto se a Salernitana hai giocato così e così rigiochi contro una squadra un pochino più forte H squadra della parte sinistra della classifica tu non vinci non vinci eh no però la forma è pro ogni partita a sé eccola ogni partita a sé eccola qui te l'hanno spiattellata davanti ogni partita a sé ogni partita sarà a sé perché ogni partita il pallone rotondo inizia 0-0 ma la mentalità è quella la mentalità è quella e si è già visto addirittura prima del mondiale 52 giorni 52 giorni e non è cambiato un cazzo dopo la figuraccia perché la chiamo figuraccia col Verona hai vinto ma è stata una figuraccia è stata una figuraccia la partita con la Spezia è stata una figuraccia la partita con la Ferentina ed è stata una figuraccia anche la partita con la Salernitana chi vince ha ragione sì ma se sei una grande squadra è una squadra che punta in alto tu devi giocare per vincere e convincere se la squadretta gioca male contro i temi ma vince c'è tutto che è da guadagnare se hai questo stemma sul petto perdi e giochi bene non frega un cazzo a nessuno neanche perdi pareggi e giochi bene non frega un cazzo a nessuno perché se tu non vinci giochi comunque male da lotta 85-95 sono 10 minuti sono 10 minuti ed è una di quelle partite dove non danno quei recuperi 12-13 minuti perché io a questo punto io a questo punto vi avrei voluto vedere se avessero dato i recuperi che hanno dato in altre partite 8-9-10-12 minuti vi avrei voluto vedere stasera se ne eravamo anche capaci di perderla di perderla questa partita e adesso vi dico ve lo metto per iscritto godetevi la partita con Lecce ci sarà il Torino di Coppetale nel mezzo io dopo quello che ho visto stasera non sono in grado di fare un pronostico col Torino visto anche il risultato che abbiamo fatto in campionato queste belle prestazioni che ogni tanto vengono fuori non paratemi di partita positiva oggi perché non esiste godetevi la partita di Lecce perché poi Supercoppa Lazio e Champions League voglio vedere quanti quante camion ci passano sopra di noi voglio vedere quanto ci maciullano vedrete vedrete perché le partite vanno portate in fondo vanno portate in fondo in fondo ci vediamo domattina con la live reaction l'abbiamo